Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Ci sono cardinali, ci sono vescovi, ci sono preti, ci sono suoni, ci sono le laiche e i laici, ci sono i bambini. Ma tutti siamo fratelli, non è più importante il Papa, il Cardinale, tutti fratelli. Ognuno ha il suo compito per far crescere il popolo di Dio. Capito? Saluto il Cardinale, i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, le consacrate, i consacrati, i seminaristi e i catechisti presenti. Quanti seminaristi ci sono? Alzate la mano. Seminaristi? Bravo, or seminaristi? Salonimo, seminaristi. Sono nascosti, hanno vergogna. Sono dietro, sul palco, sul palco, sul cuore. Ringrazio il Presidente della Conferenza per le sue parole e anche i fratelli e le sorelle che hanno condiviso con noi le loro testimonianze. Come è stato ricordato, il modo scelto per questa visita apostolica è fede, fraternità, compassione. Penso che siano tre virtù che esprimono bene sia il vostro cammino di Chiesa sia la vostra indole di popolo. Etnicamente e culturalmente molto varia, ma al tempo stesso caratterizzata da una connaturale tensione all'unità e alla convivenza pacifica, come testimoniano i principi tradizionali della Panca Sila. Vorrei riflettere insieme con voi su queste tre parole. Grazie a tutti. Grazie a tutti Ketiga keutamaan ini mengungkapkan dengan baik perjalanan Anda sebagai sebuah gereja dan karakter Anda sebagai sebuah bangsa yang secara etnik dan budaya berbeda. Pada saat yang sama, Anda sekalian dicirikan oleh sebuah pergumulan yang dalam untuk mewujudkan persatuan dan kehidupan bersama yang bersatu dan damai, seperti yang dicerminkan oleh prinsip-prinsip tradisional Pancasila. Sekarang saya ingin bersama Anda merefleksikan tentang tiga kata tersebut. Ketiga 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 kata tersebut. kata tersebut. Ketiga 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 kata tersebut. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ed è proprio così. Non ci sono due gocce di acqua uguali una all'altra. Non ci sono due fratelli, nemmeno gemelli, completamente identici. Vivere la fraternità, allora vuol dire accogliarsi a vicenda, riconoscendosi uguali nella diversità. Grazie a tutti. 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 sikap yaitu saling bergandengan tangan, seperti yang tadi diungkapkan oleh Romo Maxi nabi-nabi persatuan di dalam dunia ketika tendensi untuk memecah belah, memaksa dan memprovokasi satu sama lain, kelihatnya terus menerus meningkat dan satu hal yang beliau tambahkan secara spontan, kamu tahu apa yang mempunyai kepentingan atau apa yang memecah belahkan, apa yang meruntukkan, semua itu tentu saja adalah kerja setan, jadi berhati-hati Cosa dia ha fatto ridere? E' importante cercare di arrivare a tutti come ci ha ricordato Sorrina con l'auspicio di poter tradurre in bahasa Indonesia oltre ai testi della parola di Dio anche gli insegnamenti della Chiesa per renderli accessibili a più persone possibile e lo ha evidenziato anche Nicholas describendo la missione del catechista con l'immagine di un ponte che unisce che vi abitano ecco un'altra penting per Hal ini menyentuhi saya dan membuat saya berpikir tentang visi indah di dalam negara kepulauan Indonesia yang luas Yang terdiri dari ribuan jembatan hati yang menyatukan semua pulau Dan bahkan jutaan lagi jembatan yang menyatukan semua orang yang hidup di sana Perumpamaan indah lainnya tentang persaudaraan adalah sebuah permadani besar dari benang cinta Yang melintasi lautan, mengatasi rintangan-rintangan dan merangkul semua perbedaan Membuat semua orang menjadi sehati dan sejiwa Beliau tekankan jembatan kasih Terima 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 kasih Kita sampai pada kata ketiga Belarasa Yang sangat terkait erat dengan persaudaraan Kita tahu bahwa Belarasa tidak dibatasi saja pada memberi sedekah kepada saudara dan saudara yang membutuhkan Sambil memandang rendah mereka dari menara rasa aman dan keberhasilan kita Sebaliknya Belarasa berarti mendekatkan kita satu dengan yang lain Menghapuskan segala sesuatu yang menghalangi kita Untuk turun menyentuh mereka yang ada di bawah Mengangkat mereka dan memberikan mereka harapan Bandingkan Fratelli T70 Terlebih Belarasa berarti merangkul mimpi dan hasrat mereka akan kebebasan dan keadilan Memelihara mereka Mendukung mereka sambil melibatkan orang lain Memperluas jaring dan batas-batasan Untuk menciptakan kekuatan kasih yang luas dan besar Ini pentingkan kekuatan Dan ini pentingkan kekuatan tu li guardi agli occhi o tu le butta la moneta di lontano per non toccarlo. Questa è una cosa che dobbiamo imparare tutti. La compassione significa soffrire, patire, accompagnare nei sentimenti a quello che sta soffrendo, abbracciarlo, accompagnarlo. E non solo. Vuol dire anche abbracciarne i sogni e i desideri di riscatto e di giustizia, prendersene cura, farsene promotori e cooperatori, coinvolgendo anche altri, allargando la rete e il confine in un grande dinamismo espansivo di carità. E questo non vuol dire essere comunista. Questo vuol dire carità, vuol dire amore. Grazie. 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 c'è chi ha paura della compassione ci sono persone che hanno paura della compassione perché la considera una debolezza soffrire con altri una debolezza ed esalta invece come se fosse una virtù la scaltrezza di chi fa propri interessi mantenendosi a distanza da tutti non lasciandosi toccare da niente e da nessuno pensando così di essere più lucido e libero nel raggiungere i propri scoppi purtroppo io raccordo una persona molto ricca molto ricca, ricchissima a Buenos Aires ma che aveva il vicio di prendere, prendere, prendere più soldi è morto ha lasciato un'eredità enorme e voi sapete quali erano le scherzi che facevano la gente? eh poveretto non hanno potuto chiudere la vara voleva prendersene tutto e non ha preso niente non ha preso il vicio di prendere le scherzi questo è il caso di vedere la realità lui ha dato un esempio in Argentina, in Buenos Aires lui ha conosciuto una persona che è piena che sempre vuole ad ottenere di persone che ha venuto la loro per la loro vita e poi gli altri hanno fatto un ucino diceva un ucino un ucino perché lui ha vogli avere un ucino ma non dimenticate una cosa il diavolo entra dalle tasche sempre è vero questo di avere della ricchezza come sicurezza è un modo falso di guardare la realtà ciò che manda amanti il mondo non sono i calcoli di interesse che finiscono in genere con distruggere il creato e dividere le comunità ma la carità che si dona questo porta avanti la carità che si dona e la compassione non offusca la visione reale della vita anzi ci fa vedere meglio le cose nella luce dell'amore cioè ci fa vedere meglio le cose con gli occhi del cuore che si chiama che si chiama che si chiama Sebaliknya, Bella rasa membuat kita mampu melihat pelbagai hal lebih baik dalam terangkasi. Secara spontane, beliau mengatakan, kita melihat realitas dengan baik hanya dengan mata hati. E vorrei ripeterlo, per favore, stati atenti, non dimenticate, il diavolo entra dalle tasche. Oleh karena itu, tolong, jangan lupa, setan selalu ada di dalam saku. In proposito, il portale di questa catedrale, nella sua architettura, mi sembra, riassuma molto bene quanto abbiamo detto in chiave mariana. Esu, infatti, è sorretto al centro dell'arco e a sesto acuto da una colonna sulla quale è posta una statua della Vergine Maria. Ci mostra così la Madre di Dio, prima di tutto come modello di fede, mentre simbolicamente sostiene, col suo piccolo si, tutto l'edificio della Chiesa. Il suo corpo fragile, appoggiato alla colonna, alla roccia che è Cristo, sembra, infatti, portare con Lui su di sé il peso di tutta la costruzione, come a dire che essa opera il lavoro dell'ingegno dell'uomo, non può sostenersi da sola. Maria appare poi come immagine di fraternità, nel gesto di accogliere, in mezzo al portale principale, tutti coloro che vogliono entrare e la Madre che accoglie. e infine è anche icona di compassione, nel suo vigilare e proteggere il popolo di Dio che con le gioie e i dolori, le fatiche e le speranze si raduna nella casa del padre e la madre della della compasione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Ha detto proprio rivolgendosi ai vescovi e ai sacerdoti e ai religiosi Citava il versetto del Salmo Le tentur insule molte Gioiscono le isole tutte E invitava i suoi ascoltatori a realizzarlo Rendendo testimonianza alla gioia della Ressurrezione E dando la vita così che anche le isole più lentane possano gioire Udendo il Vangelo di cui voi siete veri predicatori e insegnanti e testimoni Anch'io vi rinnovo questa esortazione E vi incoraggio a continuare la vostra missione Forti nella fede Aperti a tutti nella fraternità E vicini a ciascuno per la compassione Forti, aperti e vicini Con la fortezza della fede L'apertura Per accogliere tutti Tutti A me Stai attento A me Colpisce tanto Quella storia del Vangelo Quando Gli invitati a nozze non hanno voluto venire E Non sono venuti E cosa fa il Signore? Si amareccia? No Ha capito qualcosa quell'uomo E manda i suoi Andate all'incroce delle strade E portate tutti 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 dentro Tutti dentro Con questa Cosa tanto bella Che Andare avanti Con la fratellanza Con la compassione Con l'unità Tutti E penso io a tante isole Tante isole Che Il Signore dice Alla gente buona A voi Tutti Tutti Ma quello è Tutti Tutti Anzi il Signore dice Con una cosa Boni e cativi Tutti Saudara-saudari Yang terkasih Saya ingin Menutup refleksi Ini Dengan mengulangi Apa Yang Santo Yohanes Paulus II Katakan Ketika memberikan Sambutan Kepada para Uskup Klerus Dan biarawan Biarawati Selama kunjungannya Di sini Beberapa Puluh Tahun Yang lalu Mengutip Ayat berikut Ini Dari kitab Masmur Masmur 97 Ayat 1 Letentur Insule Multe Yang berarti Biarlah Banyak pulau Bersuka cita Beliau Mengundang Para pendengarnya Untuk Melaksanakannya Dengan Menjadi Saksi Sukacita Kebangkitan Dan melalui Pemberian Diri Demikian Sehingga Bahkan Pulau-pulau Yang paling Jauh pun Dapat Bersukacita Karena Mendengar Injil Yang mana Anda semua Adalah Para Pewarta Para Guru Dan Saksi-saksi Yang Otentik Saya juga Ingin Membaharui Ajakan Ini Dan saya Mendorong Anda Untuk Meneruskan Misi Anda Dengan Menjadi Kuat Dalam Iman Terbuka Kepada Semua Dalam Persudaraan Dan Dekat Dengan Satu Dengan Yang Lain Dalam Bela Rasa Saya Memberkati Anda Dan Berterima Kasih Pada Anda Semua Atas Semua Hal Baik Yang Anda Lakukan Pada Hari Ini Beliau Menekankan Kembali Pentingnya Ketiga Nilai Yang Dibawa Sebagai Motu Dan Menekankan Kembali Sikap Inclusivitas Semua Semua Nilai Yang Bliot Kankan Lagi Persaudaraan Bela Bela Rasa Ia Semua Kan Adesini Banya Ulau Anche Io Vi Rinnovo Queste Esortazioni E Vi Incoraggio A Continuare La Vostra Missione Forti Nella Fede Aperti A Tutti Nella Fraternità E Vicini A Ciascuno Nella Compassione Fede Fraternità E Compassione Tre parole Che vi lascio E voi pensate Dopo Fede Fraternità E Compassione Vi Venedico Vi ringrazio Per il tanto bene Che fate Ogni giorno In tutte queste isole belle Prego per voi Prego Ma per favore vi chiedo Di pregare per me Ma state atenti una cosa Pregate a favore No contro Quindi Sebenarnya Sudah Diterjemahkan Tadi Beliau Membaharui Ajakannya Dengan Menekankan Tiga Hal Sebagai Motto Kunjungan Beliau Pada Hari Ini Secara Khusus Beliau Tekankan Kuat Dalam Iman Terbuka Kepada Semua Dalam Persaudaraan Dan Dekat Dengan Satu Sama Lain Dalam Sikap Atau Belarasa Dari Beliau Tekankan Iman Persaudaraan Dan Belarasa Ketiga Hal Ini Ingin Saya Tinggalkan Untuk Anda Kalian Semua Terima Kasih Untuk Segala Sesuatu Semua Kerja Yang Anda Lakukan Dan Jangan Lupa Berdoa Untuk Saya Tetapi Berdoa Dengan Senang Hati Ya Terima Grazie mille. Grazie mille. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto al frutto di Santa Maria amata. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Amen. Grazie mille. 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 Grazie mille.